questo è il tibidabo uno dei parchi più antichi al mondo ancora funzionanti si trova a barcellona sulla collina del tibidabo appunto ed è stato costruito nel 1899 per poi essere inaugurato nel 1901 anche se in realtà le prime attrazioni se vogliamo chiamarle così da parco divertimento sono state messe nel 1905 e oggi cercheremo di fare un po tutto quello che riusciamo per arrivare qua in realtà molto semplice basta prendere la linea marrone della metro di barcellona e arrivare fino alla fermata tibidabo da lì c'è un autobus che vi porta fino alla funicolare che porterà effettivamente al parco unicolare che è inclusa direttamente nei biglietti del parco noi oggi abbiamo pagato 35 euro per entrare qua dentro compreso di autobus funicolare ingresso al parco e ovviamente tutte le attrazioni del parco è un parco costruito su piani credo 4 o 5 piani perché in realtà è costruito sulla collina di barcellona quindi quando venite qui vedete barcellona dall'alto è una vista incredibile e quindi il parco si sviluppa su questa collina si parte dal primo livello che dove si arriva con la funicolare e si va fino giù quindi io direi di andare subito giù così facciamo tutto il parco a livelli dopodiché torniamo su prendere la funicolare che torna in barcellona ma bella hotel 666 mi sa che è quella che va di più però di quanta fila c'è porca dovrebbe essere un horror house quindi un po stile old hotel dovrebbe essere proprio un hotel si chiama hotel 666 può essere carina però secondo me dopo torneremo per farla ora però scendiamo di livello verso la nostra prima attrazione del giorno la montagna russa ah volendo puoi fare anche per 5 euro l'esperienza il guard non so se siamo al primo piano o meno fatto sta che qui c'è una montagna russa ed è un vecoma che si chiama effettivamente montagna russa peccato che io e Efrem non siamo in grado di fare il nostro lavoro ora la verità è che Efrem ha la insta 360 quindi lui era addetto ai pov io ce l'ho però l'ho lasciata in Dell solo che Efrem si è dimenticato il laggeggio da filmare ci sono due falliti che vi devo dire ciò significa che non potrete avere le incredibili riprese on board di questo coaster ma potete godervi questi ragazzi che salutano abbiamo scoperto che sicuramente non eravamo al primo livello perché qua dietro di me si può scendere ma questo coaster è incredibile è bellissimo è super carino non ha nessuna inversione è super fluido cosa che non mi aspettavo perché comunque penso sia abbastanza vecchiotto super fluido super godibile vista bellissima guarda mi è piaciuto tantissimo lo riparai così e infatti dopo l'abbiamo rifatto ma non ho nulla per provarvelo dovrete credermi sulla parola devo dire che come inizio come prima giostra non è male scusa come primo gioco non è male ma c'è un elicottero in quella casa magari è tipo un ristorante c'è un posto dove andare a mangiare si perché non penso possa partire qui dietro di me c'è anche un lobby floor questo dovrebbe essere effettivamente il primo piano che se non sbaglio è Zamperla oltre a questo ci sono anche altre tantissime attrazioni Zamperla scusate sta passando una macchina che ero interessato a comprarla voglio vederla dal vivo cacchio bella dicevo ciò significa attrazioni che girano motion sickness quindi le guarderemo da fuori è arrivato il momento di abbandonare i miei compagni di viaggio purtroppo sapete che io queste attrazioni in particolare le soffro tantissimo quindi questa barca la guardo volentieri da fuori è orribile miglior attrazione del parco perché è orribile? è più così l'altalena comunque una cosa super apprezzabile di questo parco soprattutto a quest'orario 18.35 è che è completamente all'ombra e di questi tempi è fondamentale comunque adesso andiamo a fare il diavolo si chiama diavolo veramente? si oh no una delle cose che volevo provare di più di questo parco è questa drop tower che è abbastanza alta ed è unica nel suo genere perché guardate che vista incredibile che offre però purtroppo è chiusa quindi non si riesce a provare e qui mi è venuta un'idea incredibile dato che non potevamo filmare sopra l'attrazione ho deciso di filmare il nostro giro dal basso questo è il risultato carino super rilassante c'è un pezzettino che va tipo in un po' di strapiombo e effettivamente un po' di paura ce l'avevo ultima cosa da fare all'ultimo piano è Castel del Fontes che esternamente è molto molto carino non ho idea di che cosa sia dentro bello aiuto è il laberinto di Jumanji per caso è più bello di Jumanji si potrà essere così il laberinto di Jumanji cioè scorgi un po' di foglio e svegli gli alberi in tipo di last hai tematizzato il soffitto vedi? si siamo rimasti siamo rimasti toccati qua siamo rimasti toccati siamo intrompati nel laberinto aspettatemi alla fine si è rivelato essere una sorta di walkthrough con delle scene prese probabilmente da favole io se avete dei bambini ve lo consiglio se siete così tipo noi non fatelo ultimo piano esplorato in realtà c'era anche questo treno ma c'era veramente troppa fila quindi risaliamo il parco e andiamo verso l'horror house mi sono appena accorto che in fila ci sono dei bambini piccolissimi quindi probabilmente non è un horror house troppo spinta oppure giudicheranno in base ai gruppi beh mi sbagliavo ovviamente all'interno dell'horror house non si può filmare quindi eccovi qualche spezzone di audio oddio mi sono già perso eccoci bello occhio qua che la reception è vera abbiamo usato la camera non ho capito niente ma mi sa che lo dobbiamo seguire lo sai vero che ti stai tenendo alle mie braghe? ok ma i bambini si cagano wow senza dubbio migliore attrazione che ti davo bellissima lunghissima tantissimi attori dentro è un misto di film horror è veramente molto molto bella mi sono fatto ingannare all'inizio dai bambini probabilmente non c'è limite d'età e probabilmente i genitori non hanno tanta responsabilità perché comunque quell'horror house ai bambini fa super paura secondo me però veramente veramente un horror house fatta molto molto bene tocco di classe il nano vestito da Chaki incredibile in questo piano abbiamo trovato un'attrazione di illusioni ottiche oh guarda guarda io ci sono ma tu sei lì o tu sei lì? io sono qua sei qua? sono questo no 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 alberto stai lì? dove sei? oh salve ma sei anche lì? guarda 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 sta diventando carrozza cosa? come è possibile? adesso ritorno a tutti è l'effetto quello che c'è nell'Hunted Mansion chiama il un temper ghost mi sembra una cosa del genere beh oh la qua ci sono gli specchi di Mirabilandia siamo grossissimi quanti è Efremi Giacomi? tantissimi questa copertina non sarà mai la copertina oh santa che gambe corte che abbiamo mi vedi? ah eccoti ciao oh no ma è rilì beh però gli specchi sono puliti mi sa che abbiamo finito mi sa di sì no guarda qui di là ma lo vedi? quanti si è no siamo sai abbiamo anche visitato un museo di memorabilia molto molto carino ma secondo te sono pezzi di attrazioni che c'erano prima? tipo c'è queste cosini qua tipo robe che c'erano prima qua? non ne ho veramente niente cioè se io schiaccio cosa succede? oh 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 tu hai fatto partire quello? io ho fatto partire questo madonna ma gli aerei quanto vanno forti? ma gli aerei mi sono visto stanno morendo qui dentro molto bello scusate torniamo su da dove siamo partiti andiamo a fare questo aereo rosso che è una delle attrazioni più storiche che ci sono qua dentro tanto storica ad aver dato è chiusa è chiusa perché in realtà il parco chiude alle 9 e sono le 8.45 questa in realtà è una delle attrazioni più storiche del parco tanto storica che il logo del parco è proprio questo aereo rosso praticamente questo aereo è una replica dell'aereo che ha fatto il primo volo tra Barcellona e Madrid tempo fa viaggiare in aereo era un'esclusività quindi hanno deciso di mettere questo aereo plano in cui la gente poteva effettivamente provare l'ebbrezza di fare un volo sopra Barcellona sopra la collina del Pipitano comunque volevamo fare anche quella cosa là in alto però ho paura che abbiano chiuso tutte le code mi sa di sì a meno che non ci sia pochissima coda però mi sa che è finita peccato niente coda tankada chiusa sì però scusa ci hanno fatto perdere 8.000 ore sull'horror house che ci sono stati fermi come stavamo fermi si perché non sappiamo per qual motivo ma ci sono stati dei problemi con l'horror house che ci hanno fatto perdere probabilmente in fila più di un'ora della nostra giornata sarebbe stata bella anche questa da fare però dovevamo arrivare un pochettino prima e dovevamo perdere meno tempo nell'horror house o forse potevamo partire da su e non da giù diciamo che siamo stati un pochettino sfortunati è vero siamo arrivati un po' tardi però è anche vero che le attrazioni il parco chiude alle 9 ma qui le attrazioni già alle 8.40 sono chiuse quindi sappiate che ci sono quei 20 minuti che ballano un parco sicuramente dedicato alle famiglie un plus di questo parco è che è tutto all'ombra quindi se venite a Barcellona quindi se venite a Barcellona nei giorni caldi non sapete cosa fare volete rinfrescarvi un attimo sicuramente venire qua al pomeriggio vi godete il parco all'ombra ci sono delle attrazioni molto interessanti soprattutto al primo piano che purtroppo come avete visto non siamo riusciti a fare ma anche la montagna russa il coaster che proprio si chiama montagna russa mi ha stupito veramente tanto e la vista che offre questo parco è veramente qualcosa di incredibile ora non so che video possa essere venuto perché in realtà non abbiamo fatto tantissime cose quindi probabilmente sarà un video cortissimo sì lo è ma se volete sul mio secondo canale c'è anche tutto il vlog della giornata grazie a tutti grazie a tutti grazie a tutti